Gli angeli del male del Führer sono tristemente noti per la loro crudeltà e per i crimini che commisero. Tra questi ricordiamo Rudolf Hess, politico e generale tedesco. La sua carriera lo portò a diventare un uomo tra i più influenti del Terzo Reich e del Partito Nazional Socialista tedesco dei Lavoratori. Entrato nel partito nazista nel 1920, divenne nel 1925 segretario di Hitler e fu nominato nel 1933 suo sostituto. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, Hitler lo designò proprio successore in caso di morte, nel 1941 s, contrario a una guerra contro la Russia e favorevole a trattative con l'Inghilterra, all'insaputa di Hitler si recò in volo, a questo scopo, in Gran Bretagna, dove fu arrestato. Nel 1946 fu processato dal Tribunale Internazionale di Nuremberg e condannato all'ergastolo, morì suicida in carcere.